Ok, buonasera a tutti, siamo chiaramente su Low Profile, il mio canale, però un ospite illustre che vi introduco, e cioè Adriano Della Starza, conosciuto come collezionista di ombre, divulgatore di cinema, ma te direi anche un uomo che ha il polso della critica cinematografica contemporanea, perché comunque la segue, e io con lui volevo parlare un po' di critica o divulgazione cinematografica sul web, quindi innanzitutto lo saluto e lo ringrazio. Ciao Adriano e grazie. Ma grazie a te, ciao Fabio, grazie a te per l'invito e per la presentazione che, mamma mia, mi mette già in difficoltà perché spero di essere all'altezza delle parole che hai speso per me. No, no, chi ti segue penso che sappia assolutamente che sei all'altezza. E guarda, allora, bando alle cianci, c'è una domanda che voglio farti, che è superfluo dire che io ti seguo, seguo insomma il tuo canale, le tue monografie sui registi, le recensioni, e allora, e forse sei stato anche il primo e quasi l'unico tra i youtuber che parlano di cinema, che seguo tra l'altro. E allora, io ti volevo chiedere questo, che cosa ti ha spinto a occuparti di cinema utilizzando questo medium, che è, come dire, youtube forse, il video di youtube fa, non so se mi segui, genere a sé. Il video di youtube come genere, no? Declinato nelle varie specializzazioni, insomma, che gli youtuber affrontano. E allora ti volevo chiedere, perché hai scelto questo mezzo per parlare di cinema? La domanda si presta a tante risposte. Il primo motivo che cito sempre è quello ironico, ovvero per avere una valvola di sfogo. All'inizio solamente per chi mi conosceva, in realtà, non immaginavo di arrivare a concedere interviste, quindi questo mi devi credere, voglio dire. Davvero pensavo a una specie di gioco tra i miei amici che potevano consultare i miei video come recensioni, diciamo così, internos. Poi in realtà c'è stato, diciamo così, c'è stata più di una svolta, ma soprattutto più di una presa di coscienza, perché in realtà io ho cominciato a fare questo tipo di... da creare questi contenuti, per carità, senza sfruttare le potenzialità di YouTube. Cioè, io non faccio video articolati come YouTube permetterebbe di fare a chi fa il videomaker davvero, ad esempio, che ne so, ragionare sulle immagini, confrontandole, entrandoci dentro. Io ogni tanto faccio vedere qualche spezzone di qualcosa, ma in modo molto artigianale. Però mi sono reso conto, man mano che facevo questa cosa, che il mondo di YouTube e il mondo del web in realtà è un po' diverso, per certi versi molto differente rispetto al mondo invece a cui ero abitato io. Quando leggo di cinema io vedo delle cose e faccio dei percorsi che poi non hanno nessuna eco sul web, a livello proprio di impostazione, di analisi, di approfondimento, ma anche di cose assodate per il mondo accademico, istituzionale, critico, italiano, che invece sul web devono essere sempre ribadite o dimostrate addirittura, argomentate. Quindi mi rendevo conto che certe cose che magari io faccio anche su altre forme d'arte, ad esempio la letteratura, perché sono un insegnante di lettere, poteva essere un modo per portare verso delle analisi più approfondite o dei punti di vista, diciamo così, diversi, a cui il web si presta perché YouTube non ha un limite di tempo, cioè uno può fare un'analisi di un film e può parlarne in modo abbastanza approfondito senza bisogno di interrompersi. Cioè poi io, non lavorando per nessun editore che mi dice fai un video di 10 minuti, non andando dietro alle tendenze, alle cose, faccio quello che voglio. Quindi ecco, diciamo che ho notato che forse potevo rappresentare un oasi nella quale si ascolta un po' la mia voce e si ascoltano le mie riflessioni senza stare dietro al ritmo, al tempo, alle tendenze, ai pregiudizi, al fanatismo, al tifo da stadio, se pro Nolan contro Nola, pro Spielberg contro Spielberg, pro Western contro Western, pro Polanski contro Polanski. Cioè si parla di cinema, si cerca di parlare di cinema senza tutte queste gabbie che ogni tanto invece vincolano i miei colleghi youtuber o addirittura men che mai stare dietro al pubblico come è stato anche ammesso da alcuni youtuber sul mio canale. Quindi la cosa è diventata così. Poi però lo step ultimo è stato quello di far scoprire o di dimostrare alla mia community che in realtà il mondo dei critici è un po' diverso da come lo dipingono, lo dipinge il web. Ma perché io sul web, ho sempre letto, e questo purtroppo mi ha spaventato parecchio, giudizia abbastanza trancià sui critici, anche se quelli più autori, anche se quelli che addirittura insegnano nelle università, come se fossero una masnata di sprovveduti che non sanno distinguere, che ne so, un buon film da un film più modesto, oppure non sanno distinguere uno zoom da un carrello. Si parlava con troppa sufficienza di autorevoli esponenti del nostro panorama culturale, o addirittura non se ne ignorava l'esistenza. Se vuoi si posso citare l'evento, che mi ha un po' dato il là alle interviste della critica. L'evento è stato un video di YouTube, una piacevolissima chiacchierata fra due importanti esponenti del mondo del web, e poi c'è Francesco Alò e Federico Frusciante, che hanno collaborato, che hanno fatto una specie di intervista o di seminario, non lo so, su un canale YouTube, Caffè Rossellini mi pare, e a un certo punto nel loro dibattito sulla critica italiana si è chiesto alla platea, non mi ricordo chi dei due ospiti, mi ha chiesto alla platea di fare qualche nome, platea che è presumo di cinefili, non lo so, di fare qualche nome di critico giovane, o comunque autorevole, di cui aspettassero la recensione di un film, e nessuno, cioè uno ha detto Canova, e poi nessun altro, io sono rimasto, questo video credo sia del 2018, 2018, o 2019, io sono rimasto basito al fatto che una congrega di cinefili, che vanno ad ascoltare due autorevoli esperti di cinema, cioè nessuno alza la mano e dice Giulio San Giorgio, nessuno alza la mano e dice Gervasini, nessuno alza la mano e dice Ilaria Feole, cioè Maurizio Ciotta, cioè Ciotta Silvestri, caspita, Ciotta Silvestri, hanno fatto cambiare idea, Rossanda Rossanda su Green Diffus, cioè Ciotta Silvestri dovrebbe essere per un cinefilo quello che Woodward e Weinstein sono stati per la politica americana, cioè voglio dire, non dico che far cambiare idea un intellettuale su un regista, voglio dire, perché sono cresciuto nel mito, comunque dando grandissima considerazione alla critica, grandissima considerazione, non solo a Canova e Mereghetti, che sono i decani, non solo a Ghezzi, cioè ma proprio alla critica che io leggevo sui giornali, quindi vedere proprio l'oblio che sul web si respira su questi nomi, mi ha detto, vabbè perché faccio qualcosa io allora a sto punto, cioè l'intervisto sul mio canale, tanto non penso che mi diranno tutti di no, ma invece grazie a Dio diverse decine di questi illustri critici che sono venuti sul mio canale e hanno detto cose, secondo me interessantissime, diverse tra di loro, perché io certe volte faccio le stesse domande per mostrare le risposte diverse che danno questi critici, sullo stesso regista, sullo stesso film, sullo stesso movimento culturale, e quindi voglio dire, ho cercato di dare sul mio canale forma a un pensiero critico che non mi sembra meritorio né di essere denigrato o sottostimato, né di essere addirittura ignorato, ma invece meritevoli di grande considerazione, perché penso che dicano cose interessantissime, poi si può essere d'accordo o meno, perché poi questo è il punto, quello che dicono non deve diventare oggetto, e quello che dico io, quello che diciamo noi youtuber, non deve diventare oggetto di uno schieramento, per cui c'è chi ha ragione, c'è chi ha torto, no, il pensiero critico si può costruire in modo molto più dialettico che non facendo il tifo da stadio, e quindi la mia opera in realtà conosce questi due grandi momenti, quello dell'approfondimento, che io ci ho messo tempo a fare perché i miei amici me lo sconsigliavano in continuazione, dicendo che erano io, e sì, perché è troppo lungo il video, troppo lungo, troppo lungo, taglia, taglia, accorcia, taglia, e invece poi me ne sono fregato e ho cominciato a fare come dicevo io, e quello della critica che per me è un punto di partenza fondamentale, poi ripeto, critica, e io invece noto che sul web molti dicono, cioè pensano sotto sotto che se leggono tre, quattro recensioni prima di maturare un parere su un film è come se per te sono la tua identità, invece secondo me non è così, cioè i pareri critici possono aiutarci a costruire una nostra chiave di lettura che però tiene conto anche del dibattito culturale dei critici, e che male c'è? Io penso che questo sia un arricchimento, cioè succede in tutte le espressioni artistiche questa cosa, cioè succede in letteratura, succede in pittura, succede nella poesia, nel teatro, non capisco perché non debba succedere nel cinema che la critica è un punto di partenza, Certo, io ti dico, penso che ci sia, e tu mi sembra che nei tuoi video spesso questa cosa la rimarchi, a volte c'è uno scollamento tra quello che può essere il dibattito critico delle riviste, poniamo così, le poche che sono rimaste, insomma i giornali, e il web, dove nel web, come dici te, si riscontra un pochettino questa cosa, cioè, come dire, l'analisi spesso non è vista come, come dire, un momento fondante, proprio del pensiero intorno a un film, ma mai visto quasi come una cosa superflua, una cosa troppo cerebrale, insomma, spesso a me sembra di vedere queste cose, così come altra cosa molto antipatica, in effetti, quello che dicevi te, è il tifo da stadio, ecco, non pensi che specie poi intorno ad alcune figure di registi, il tifo da stadio la stia facendo da padrone, tu prima hai detto Nolan, a me è capitato, ma anche in, diciamo, in contesti assolutamente informali, magari di esprimere anche dei pareri forti rispetto a un film, e, come dire, scoppia un'indignazione che neanche, non lo so, avessi detto viva l'olocausto, insomma, cioè proprio delle robe, semplicemente perché quando io, non so cosa ne pensi te, io penso che in linea di massima tutto sia lecito, cioè io posso anche avanzare, non lo so, dei dubbi, parlo per assurdo, io posso avanzare dei dubbi su 2001 di Sé nello Spazio, a patto che un minimo li motivi e che te hai conto di che cos'è 2001 di Sé nello Spazio, cioè a me potrà anche magari, come dire, piacermi meno che so di quarto potere, però è chiaro che insomma, dovrò capire che cos'è stato quel film nel 1968, che cos'ha rappresato per la fattascienza in particolare, per il cinema tutto in generale, quindi, insomma, sono cose da cui si potrebbe uscire un pochettino dal solito schieramento per cui tutto è, non lo so, siete dragoni rispetto a un autore, rispetto a un film, rispetto a un movimento, tu come la vedi? Ecco, perché a me sembra che il tifo da stadio sia abbastanza spesso sul web poi domini, ecco. Sì, assolutamente, infatti io proprio adesso sono redduce da una precitazione sul mio post su Facebook, io ogni tanto commento le cose del cinema su Facebook, oggi è giorno di nomination, quindi ho scritto una battuta sulle nomination agli Oscar e ho fatto una battuta un po' con gli Ardica senza pretese e subito un caro amico sotto ha scritto se reputasse scandalosa la la serie di nomination a Everything Everywhere All at Once io non mi scandalo, cioè, perché scandalo? Io lo scherco sempre un'altra cosa che non uso mai è scandalo, perché dovrebbe scandalizzare il fatto che un film che riesce a intercettare e a parlare di cose molto legate alla contemporaneità con uno stile e con un modo accattivante perché usa l'idea del multiverso è ovvio che entra nella cultura popolare negli Stati Uniti è molto apprezzato questo tipo di discorso la 24 gode di incredibile consenso critico cosa che piace alla critica tendenzialmente americana piace al pubblico che è piaciuto al pubblico non capisco perché debba fare scandalo se si è celebrato in sede diciamo così di premi di riconoscimenti è una cosa normalissima e poi che a me non sia piaciuto il film che a me il film abbia suscitato pochissime reazioni sia abbastanza per me trascurabile come opera non significa nulla magari certi anni hanno vinto film che io adoro tipo Argo però a molti altri non è piaciuto per niente quindi voglio dire che significa invece si usa appunto il tifo d'astate quindi io sono contro poi l'altra cosa più passano gli anni questa sarà una cosa di noi vecchietti non lo so noi siamo vicini quindi è ovvio che i giovani magari non ci capiscono però credo che sia molto più interessante molto più stimolante molto più non lo so per me è gratificante anche costruire appunto articolare dei pensieri che un film ci suscita purtroppo invece che stare lì a dire cosa pensiamo di un film ma invece articolare che cosa quel film ha fatto pensare non che cosa ne penso di quel film ma il dibattito o comunque le cose che ha innescato a livello estetico a livello figurativo a livello visivo a livello iconico anche a livello narrativo e concettuale cioè ne parliamo vediamo dove andiamo con il dibattito e con i pensieri che accende piuttosto che dire l'opinione su quel film quindi voglio dire 2001 ancora accende molti 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 pensieri però è anche lì sul web in Italia soprattutto Kubrick sembra essere intoccabile molti altri registi importanti tanto quanto Kubrick non sono neanche nominati cioè un'arte 150 anni 130 anni di cinema non possono essere riassunti in tre nomi che sono intoccabili il resto è nulla e neanche poi ci metto l'altro aspetto sempre dativo da stadio finiti quei tre nomi poi si cominciano invece a snocciolare i nomi di quelli che appartengono a cinematografie molto distanti dall'Italia che quindi da noi non hanno avuto distribuzione e quindi uno l'ha visto in modo pirata o illegale e anche questo affascina molto i giovani per carità niente di male tutto questo lo possono continuare a fare solo che prima esauriamo tutto quello che abbiamo a disposizione poi andiamo su quello che non c'è a disposizione andiamo per step per gradi invece c'è vedo che c'è questa bulimia per il piccolo il nascosto invece magari l'elefante nella stanza che ne so invece poi uno piccole volpi non l'ha mai visto ho preso Stargis non sa chi è ma non perché lo devi sapere ho visconti hai visto due film ma non perché perché parlo di questi registi europei o americani perché noi siamo calati in questa cultura cioè io scommetto che uno che ha fatto le scuole in Italia faccia meno fatica ad approcciarsi a un testo audiovisivo che affonda le sue radici nel nostro patrimonio culturale quindi parla un po' di Shakespeare tragedia greca Bibbia Freud cioè cose che abbiamo studiato a scuola piuttosto che un testo filmico che parla di cose che invece devo studiare per capire cioè di cultura nipponica dell'estremo oriente cioè tutte cose molto distanti da me poi che ci sono registi orientali che sono riusciti a costruire discorsi trasversali come Kurosawa è un altro problema di maniche però voglio dire cioè mi sembra più più immediato prima andare a fare un'analisi su quello che abbiamo qui che parla anche di noi quindi il nostro patrimonio culturale Fellini Zurlini Pietrangeli cioè i nostri vediamoci i nostri poi vediamo l'Europa poi vediamo l'Occidente cioè perché apparteniamo a questa cultura non perché dobbiamo discriminare poi arrivati i 30 35 anni quando ci sono fatti il nostro bagaglio abbiamo letto qualche libro in più riusciamo pure a che ne so invece io vedo che c'è questa voglia sempre di dare per scontato le cose diciamo questo è classico è scontato che è bello però capiamo perché è bello quindi anche su 2001 capiamo perché è così importante poi magari su Kubrick lo sappiamo su altri registi non lo sappiamo su Bergman già lo sappiamo di meno ecco poi hai citato William Wyler che secondo me è veramente un grande e tra come dire tra adesso che un ragazzo magari non sappia che è William Wyler vabbè ce lo accetto però è un regista che anche all'interno della sua filmografia ha delle zone che ulteriormente in ombra cioè lui già magari in ombra rispetto ad altri nomi anche coetanei che vengono più celebrati magari anche che ne so giustamente però è veramente un cineasta segreto io ho visto da poco non so se l'hai visto anche te Il silenzio si paga con la vita che è il suo ultimo film non lo so boh è per me un film pazzesco quello e per certi versi cioè per certi versi è anche diverso da quello che lui ha fatto prima quindi cioè comunque vabbè ce ne sarebbe da dire però sono d'accordo con quello che dici sul tifo da stadio meno tifo e più costruzione di un sapere sì sì dibattuto ampliabile però condiviso sì sì io ho visto quando uscì un film recente che a me è piaciuto molto c'era una volta a Hollywood no? e mi ricordo che il tipo di dibattito che si era un po' così ragrumato sul web verteva sul fatto ah ma questo film non succede niente è brutto sentivo tutti questi discorsi sulla presunta mancanza di trama del film in realtà la trama c'era è anche molto strutturata per quanto mi riguarda però è chiaro che voglio dire parliamo veramente dei social ecco non parliamo di un sito non lo so che tratta di cinema o che altro però ti trovi spesso che ne so sui gruppi di cinema ti trovi spesso queste cose un po' puerili dai che fanno anche un po' ridere insomma e poi abbiamo citato due nomi che hanno una cosa in comune molto interessante ecco su questo dovrebbe essere Nolan e Tarantino si potrebbe costruire un bel pensiero un bel approfondimento cioè questi registi non lo dico solo io costruiscono mondi costruiscono mondi anche quando parlano di storia e quindi non è solamente un qualcosa cioè non è scontato quello che che fanno col tempo e con lo spazio e con la storia Tarantino e e e poi magari può riuscire la ciambella col buco può non riuscire col buco questo è un altro problema di mani però almeno hanno questa capacità di rappresentare una realtà e di costruire un mondo invece in questo momento il cinema sta abdicando a questa sua vecchia funzione perché insegue la realtà volendola riprodurre in modo quasi calligrafico e quindi la provocazione che lanciò Canova agli Oscar di qualche anno fa quando c'era Tenet candidato è una provocazione molto intelligente poi ripeto uno Tenet può anche dire vabbè però non ci riesce non è sono d'accordo però si inserisce in un solco poco battuto oggi perché quando chiesero qual era la sceneggiatura migliore tra quelle candidate quell'anno non c'era Tenet tu gli dissi per me la sceneggiatura di Tenet è superiore a tutte quelle candidate e tutti quei film adesso non mi ricordo quali erano tutti erano Omadland eccetera avevano questo comune denominatore ovvero riprodurre la realtà inseguire la realtà cercare in qualche modo di fornire un riflesso uno specchio della realtà ecco è bello invece sapere che esiste un dibattito critico che sonda le potenzialità del cinema e le considera un'arte iconica che deve rappresentare la realtà non imitarla non essere nello specchio e quindi poi arriviamo ecco al povero disgraziato sottoscritto Adriano della Starza che si trova in una diretta su un canale di cari amici youtube youtuber c'era un regista un cinefilo ospite in quella circostanza a parlare del traditore di Bellocchio e l'ospite in questione che fa anche il regista quindi fare il regista non significa conoscere la storia del cinema accusava il traditore di Bellocchio di essere un film documentaristico cioè io vedo o vedo il traditore la famosa frase o vedo il traditore o vedo una puntata di di uno speciale in televisione sulla mafia è la stessa cosa cioè aveva completamente perso tutto il dibattito critico che c'è stato negli ultimi trent'anni sulla capacità di Bellocchio di inventare dei mondi inconsci del nostro paese giocando con l'immagine e miscolando immagini diverse in modo assolutamente rivoluzionario tant'è vero che quest'anno e quest'anno notte non è un caso che abbia sorpreso l'Europa e abbia ricevuto il premio a Reykjavik agli Oscar europei come opera più avanguardistica dell'anno perché sono vent'anni che Bellocchio trenta forse che Bellocchio fa questo lavoro transmediale che adesso è diventato cool e figo quando lo fanno i Daniels per Everything Everywhere All at Once però Bellocchio lo fa in modo molto freudiano psicoanalitico suggestivo spiazzante stralunato che ci mette dentro anche le sue questioni personali quindi se uno non ha seguito il dibattito anche critico che c'è su Bellocchio vede il traditore e non ha gli strumenti per capire dove sta andando a parare ovviamente non tutti gli spettatori fanno così però a me si sorprende che un cinefilo non faccia questo che non lo faccia lo spettatore occasionale va bene ma il cinefilo dovrebbe prendersi un libro che parla del caso Moro nel cinema di Bellocchio e leggerselo per capire meglio e non dire non andare fuori strada perché poi non è vero che tutte le opinioni sono uguali c'è da dire che se posso permettermi io adesso non so il fatto contingente a cui ti riferisci però dire una cosa del genere di un film come il traditore diciamo non riconoscere io penso una eccentricità rispetto a quello che è il cinema di impegno italiano in senso lato non riconoscere questa eccentricità nel traditore che è forte indipendentemente dal fatto che posso piacere o no io penso che il traditore non assomigli neanche lontanamente a ciò che può aver fatto in passato anche il miglior cinema di Rosi o di Damiani o quel che vuoi cioè non è più neanche un problema di dibattito critico io credo che forse il problema sia proprio di lettura delle immagini o semplicemente di gusto personale io sono d'accordo con quello che dici cioè poi può piacere o meno però prima capiamo che cosa cioè capiamo è un parolone prima cerchiamo di dare una giusta dimensione una corretta dimensione a quello che abbiamo davanti poi possiamo dire ma a me non mi interessa questo non mi piace non suscita in me nessuna emozione nessun coinvolgimento nessuna empatia e quindi sì abbiamo discusso però lo rigetto e mi concentro su altro legittimo nessun problema cioè non c'è nessun problema però prima comprendiamo quello cioè analizziamo per bene quello che abbiamo davanti e poi reagiamo come soggettivamente ci dice il nostro cuore non c'è niente di male cioè io non amo molto la letteratura di D'Annunzio e ogni anno in quinto la spiego non è che la spiego l'analizzo la leggo poi è ovvio che un romanzo di D'Annunzio mi rimane dentro per poco tempo un romanzo di non so di Pasolini mi rimane dentro più tempo e vabbè non è un problema però ecco tornando a Tarantino e Nona Tarantino cioè con Bastardi Senza Gloria ha fatto una cosa fondamentale secondo me cioè ha dimostrato che il cinema può cambiare la storia cioè ti dà un valore quel film di quello che può fare il cinema come arte dell'immagine dell'immaginario non solo però il finale di Bastardi Senza Gloria è geniale perché il sadismo che Christophe Waltz Landa ha mostrato nella prima parte del film quando si rega a casa del francese alla ricerca degli ebrei si vede chiaramente che lui sta è il genio del male no? sta in tutto gioca come il gatto col topo ecco non ci vuole perdonatemi la similitudine telefonatissima ok? ma quando alla fine Brad Pitt calpesta l'accordo fatto con Landa e lo sfregia in volto e noi proviamo quel gusto pensando che sta facendo la cosa giusta noi siamo come noi siamo Landa cioè nel senso che il male noi ce lo portiamo dentro quindi c'è lo spettatore a quel punto è Brad cioè gode come Brad Pitt ed è sbagliato ed è sbagliato che lo spettatore faccia questa cosa perché ci rende uguali alla guzzino che adesso non deve essere tanto così perché dobbiamo essere moralmente diversi altrimenti siamo nazisti anche noi cioè noi ci dobbiamo comportare diversamente quindi fa un discorso di questo tipo mentre diciamo così fa anche tante altre cose che caspita a ogni visione tu riesci a entrare dentro un meccanismo di perversione e di anche riflessione sulle immagini su quello che vedi che voglio dire mi dice tantissimo sulla contemporaneità e sul ruolo delle immagini della contemporaneità quindi no apri una vertigine con questa cosa qua si si apri veramente una vertigine e io mi te lo dico subito ho tre domande da farti ancora non voglio tre domande e una in qualche modo me l'hai un po' anticipata perché un'altra cosa e te la faccio adesso appunto per collegarmi che la volevo lasciare per ultima vabbè e vedi sto facendo del montaggio proprio e tu hai citato allora tu sei un insegnante ecco questo è una cosa molto interessante secondo me cioè il fatto che tu hai a che fare tu insedi in una scuola media superiore dico bene sì in un liceo classico in un liceo classico ecco quindi hai ecco guarda quindi hai a che fare con dei ragazzi giovani presumibilmente non voglio adesso come dire tagliare le cose con l'accetta però anche di un'estrazione così parliamo di medio alta borghesia insomma quindi forse gente che ha in casa dei libri non lo so però hai citato Pasolini allora Pasolini perché io a me è capitato per due volte di parlare con dei ragazzi molto più giovani di me gente di vent'anni che e gente di gusto insomma che comunque hanno non dei cinefili però insomma gente che magari sa riconoscere in linea di massima un bel film di fronte uno in particolare di fronte al Decameron di Pasolini mi ha detto e mi ha fatto anche un po' cioè ci sono rimasti perché mi ha detto no ma il Decameron è brutto gli attori non sanno recitare è montato male cioè mi ha fatto tutto un discorso ci sono rimasto perché e allora mi sono detto vabbè cacchio lui ha una sua formazione molto circoscritta perché effettivamente ci sta che se tu ti sei nutrito di un cinema come dire professionalmente molto alto come può essere mediamente il cinema americano poi dal nulla ti mettono davanti un film di Pasolini ci sta che questo film a te sembra sbagliato sembra proprio tecnicamente sbagliato e magari non lo capisci allora io mi chiedevo il polso diciamo della gioventù che tu hai potuto assaggiare finora come si pone di fronte a forme di cinema che probabilmente diciamo nel nostro tempo diventano sempre più di nicchia anche e parlo di un regista che comunque il Decameron in particolare non vorrei dire una sciocchezza ma penso che abbia anche incassato molto a suo tempo c'è un film assolutamente sì che ha incassato che ha creato poi il sottogenere del Decamerotico quindi non un film che ne so che esce per un giorno in un piccolo cinema ma un film che presumibilmente vedono in tanti e allora tu come la vedi la possibilità insomma di un ragazzo di restare perplesso di fronte a un cinema che adesso sembra così lontano così remoto ma che non lo è stato anzi è stato proprio il contrario per certi versi la tua esperienza ti ha avvicinato a cose di questo tipo oppure no? Allora io nel mio profondo pessimismo quando parlo di cinema con i ragazzi già da 15 anni a questa parte quindi non è da adesso io insegno da 17 anni 18 ho sempre fatto con estrema cautela usando lo stesso sistema che uso però con la letteratura perché ti racconto l'aneddoto martedì scorso andiamo a Roma con le quarte e le quinte a vedere le nuvole di Aristofane in questo bel teatrino romano che si chiama teatro romano che si chiama arcobaleno che fa allestimenti teatrali classici tra cui ad esempio anche il vantone che è la trasposizione la traduzione pasoliniana del milles gloriosus plaudino e appunto abbiamo portato le quarte e le quinte io avevo la quinta a cui ho fatto con cui ho trattato Aristofane lo scorso anno e giustamente i miei ragazzi poi alla fine dei spettatori hanno detto per fortuna abbiamo fatto Aristofane l'anno scorso perché altrimenti non l'avremmo capito ecco quella frase detta da un paio di ragazzi dopo lo spettacolo che è piaciuto tantissimo hanno riso hanno fatto una bella interazione poi con gli attori e il regista dopo lo spettacolo c'è stato un bel dibattito erano preparati erano sul pezzo e infatti il regista ha detto si vede che fate il classico siete molto sul pezzo ecco questo aneddoto ci fa capire è che in realtà i ragazzi hanno bisogno di una contestualizzazione cioè dare impasto anche anche film più 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 accattivanti anche la ciamma del peccato secondo me è rischiosa per dire non devi arrivare al decamero dare impasto a dei ragazzi di film così solo perché per noi sono bellissimi o dei capolavori è molto può essere anche frustrante approfondito Pasolini per conto suo magari riesce ad entrare subito in sintonia non lo so magari conosce ha una sensibilità diversa però ecco parlo in linea di massima secondo me non porta da nessuna parte cercare di cioè poi lo si può fare però poi non ci deve aspettare chissà quale ritorno ecco cioè deve essere pronto al peggio se io quando ho fatto vedere una volta feci vedere senso di Visconti a una quinta ma credo non mi ricordo se una o due ore di preparazioni ci furono per la visione e loro avevano già studiato l'ottocento il risorgimento il quadro di Hayez del bacio la scavigliatura cioè un sacco di roba avevano studiato questi qua erano una quinta quindi voglio dire anche con una certa età dopo 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 arrivi a fare cioè li fai appassionare all'Ukino Visconti e alle sue contraddizioni di aristocratico comunista cioè li porti in tante strade e poi arrivi sono pochi quei film con i quali puoi fare il contrario secondo me ci sono eh ci sono dei film in cui puoi fare anche il contrario puoi farvi vedere di solito sono quei film che hanno ehm una una ricerca della magniloguenza o della provocazione mh molto universale però una provocazione deve essere molto accattivante non quella che fa Pasolini sì e quindi che ne so fai vedere diciamo mi ha fatto vedere abbiamo iniziato il cineforum settimana scorsa c'erano Hortley West alcuni minuti per commentargli e far vedere come si analizza una scena ecco quel film ha subito catturato ecco Sergio Leone è uno che cattura subito certo posso immaginare quindi nella tua didattica nella tua didattica è presente anche il cinema anche proprio come mostra visione di film il pomeriggio facciamo cerchiamo di fare il cineforum con la pandemia mi sono fermato perché riunirsi era praticamente impossibile adesso abbiamo ripreso in modo molto cauto abbiamo ripreso abbiamo ripreso perché diciamo che i presidi con cui ho collaborato sono stati sempre molto sensibili al discorso dell'audiovisivo e dell'alfabetizzazione cinematografica certo nella mia scuola o nelle scuole dove sono stato si usa parecchio il cinema comunque in modo autonomo i docenti lo fanno però lo fanno come tappabuchi lo fanno come forma di testo ancillare a qualcos'altro devo spiegare un concetto di filosofia faccio vedere una scena o faccio vedere l'arancia per il cane devo spiegare la prima guerra mondiale faccio vedere orizzonti di colori cioè sempre ancillare a qualcos'altro invece io cerco di ritagliarmi degli spazi in cui faccio vedere una cosa che è importante in quanto cinematografica ecco un altro film che ha un appello incredibile incredibile nelle quinte soprattutto è Divorzia l'Italiana Divorzia l'Italiana è un film che che arriva che acchiappa i ragazzi appunto sono questi film che hanno uno stile marcato marcato sopra le righe non lo so come definirlo però marcato particolare appariscente ecco uno stile classico più nascosto più invisibile quello va preparato oppure uno stile appunto pasoliniano anche quello va preparato secondo me non ci ho mai provato abbiamo visto a Cattone l'anno scorso anno perché ho fatto vedere a Cattone perché l'anno scorso lavoravamo su Pasolini in un laboratorio di lettura però lavoravamo sul suo romanzo e quindi il film il cinema era qualcosa di secondario se preparato si può fare ma se non è preparato non mi aspetto un grande feedback non mi aspetto comunque molto interessante anche il discorso di mostrare film che non esauriscono diciamo l'interesse per la classe nell'argomento diciamo che magari si tratta spagliatissimo questo è molto interessante perché poi spesso quando ero ragazzo io alla fine succedeva così ecco poi magari ti facevano vedere anche un bel film non dico non so se si parlava di guerra in generale mi ricordo ci sparavano Platoon però vedi anche il fatto che avevano quel film solo quel film ti fa capire che diventa tutto molto meccanico parli di una certa cosa mi fai vedere sempre lo stesso film quando magari si potrebbe ampliare appunto lo spettro di scelte no ma comunque vabbè ti chiedo una cosa riguardo al che mi preme perché prima ho azzardato un video di YouTube come genere no perché in fondo che cos'è il video di YouTube cioè per dire una cosa che che mi aveva colpito appunto nel tuo canale la disinvoltura con cui tu carichi dei video di svariate ore che poi io mi sono anche visto no perché quando c'è chiaramente la monografia sul regista che mi interessa tipo hai messo ieri credo i western di Howard Hawks no e io me li guardo piano piano chiaramente non è che in un'unica seduta di visione mi guardo tutto qua e allora e questa è stata una scelta un po' coraggiosa ti volevo chiedere un po' anche perché io rivelo un po' la mia ignoranza io non so se e quanti tuoi colleghi fanno la stessa cosa io seguo un po' frusciante soprattutto per le sue mini recensioni che fulminanti così che mi piacciono molto però poi dopo di altri non so se c'è questa cosa magari di fare delle monografie così lunghe e allora volevo chiederti un po' come ci sei arrivato cioè se c'è stato un processo se sei pensato un attimo anche se poi come credo ecco forse la risposta la so già che in qualche modo hai deciso di liberarti da ogni come dire da ogni catena insomma temporale esatto nel senso che facevo le prime così di monografie cercato di stare nell'ora nell'ora e mezza no perché quando ne parlavo con gli amici ti dice guardate voglio fare una cosa su Spielberg beh deve essere però breve deve essere però rapida lo spettatore si annoia e quindi niente mi rendevo conto che però mi sentivo ingabbiato tant'è vero che su Eastwood mi inventai ormai tantissimi anni fa Eastwood attore Eastwood regista cioè cercare di sdoppiare fare due video per me Eastwood è maestro sommo altro che 15 ore di scorsese ne farei 35 su Eastwood e niente poi a un certo punto non ricordo in concomitanza con quale regista boh forse Coppola forse Cimino proprio non mi ricordo cioè mi rendevo conto che io stavo stavo in qualche modo avuto o Bertolucci forse avevo letto tante cose mi andava di dare un quadro più approfondito sempre partendo da letture perché poi ci sono anche registi ad esempio Scotto De Palma che ho fatto a braccio senza prepararmi chissà cosa ma perché sono letture sedimentate che avrei fatto fatica a recuperare cioè molte cose su De Palma le ho lette ma non saprei neanche dirti dove perché sono quei registi con cui sono cresciuto cioè io leggo cose di film di cinema dal 93 capisci bene che alcune cose sono proprio le ho perse proprio cioè i libri o i numeri di riviste magari le ho perse proprio oppure le ho lette nella biblioteca universitaria non saprei neanche recuperarle anche perché conservare tutto è impossibile cioè tra quando sono sposato adesso ho tutto vabbè grazie sono casa mia e va bene e quindi praticamente e sì possono capitare casi in cui faccio una monografia e vado un po' a braccio però ecco non mi freno neanche lì tipo Scotto comunque è venuta non mi ricordo quanto tempo anche quella è abbastanza lunga perché su Lidale Scott ha tanto da dire in quanto un regista su cui ho letto sempre tanto però di solito il mio modus operandi è insomma di studiare un minimo di ristudiarmi un po' le cose magari mi compro un saggio che mi sorprende per quello che ci trovo e non sapevo e cerco di costruirci sopra un pensiero e una riflessione e quindi le preparo come se fossero delle lezioni di scuola praticamente ecco poi le monte insieme le monte insieme perché mi piace che le persone facciano come fai tu cioè vanno un po' su quella pagina ah io ho visto di Coppola un sogno in un buongiorno mi vedo solamente la recensione di un sogno in un buongiorno poi insomma con l'indice è facile tu ci clicchi sopra e ti vedi solamente il pezzetto che ti interessa ci mancherebbe poi ovviamente questo discorso io sono uno che non si accontenta mai mi piace però anche fare qualcosa di cadenzato e quindi alcuni registi li tratto un pezzetto alla volta a Billy Wilder a Freddy Hitchcock appunto Stanley Kubrick cioè negli anni aggiungo un pezzetto negli anni aggiungo un pezzetto mi piacciono mi piace fare tutti i due modi ecco non è che mi piace solamente una cosa e non un'altra poi non guardo quello che fanno gli altri cioè sì so che Federico fa approfondimenti molto lunghi mi fa piacere cioè lui è bravissimo ha un grande seguito fa bene quello che fa lo fa egreggiamente niente da dire però non è che sto guardando quanto durano non durano i suoi video sinceramente è un discorso che non mi interessa però ecco mio amico un mio amico youtuber quando feci quella su VDA mi fece notare che avevo battuto il record su YouTube Italia mi era fatto vedere lui non è che mentre la preparavo stavo lì a pensare al record cioè non mi interessava quella discorsese è ancora più lunga quindi presumo che sia record pure quella ma ripeto è successo così anche perché quella discorsese l'ho girata in due mesi e sinceramente non è che stavo a pensare alla lunghezza non mi ricordavo neanche le cose che dicevo è stata un po' faticosa come operazione sei l'Edgar Reiss degli youtuber praticamente è la prossima che fa rossa la Lucia Visconti perché ho letto un bel libro su Lucia Visconti mi va di parlarne quindi cerco di mettere tutti i film insieme no no ma è bello così perché si dà anche un po' di complessità diciamo che spesso viene a mancare quando si quando si traghetta magari la critica che so dallo diritto appunto all'orale per usare categorie scolastiche è un fatto che c'è un po' meno complessità e invece tu questa cosa la tieni insomma tu te ne freghi e quando parli di un film ne parli in maniera rigorosa ecco va detto ti ripeto io lavoro come se stessi preparando una lezione su Virgilio e quindi lo so che è qualcosa anche il mio di non originale di parassitario cioè alla fine si tratta di un video di youtube illuminante che ti fa vedere una cosa sfruttando le potenzialità di youtube e lo so infatti quando mi chiedono mi dicono se sono un youtuber io dico no cioè lo youtuber penso che sia faccio l'esempio che fa Canova così non mi devo sforzare a trovare un esempio mio quando Canova parlò di questa cosa tanti anni fa in un suo convegno disse che che ne so esce il grinta dei Cohen far vedere alcune scene del grinta dei Cohen esempio l'Incipit o il finale aggiungo io paragonato con il grinta di Harry Hathaway mezza mezza inquadratura sopra mezza in sotto far vedere scene come la stessa storia sarà raccontata in modo diverso questo lavoro sarebbe un lavoro che esalta le potenzialità di youtube magari fare entrare lo youtuber dentro l'immagine si mette a spiegare meglio le cose come faceva peraltro io da ragazzino mi registravo anche un critico che nessuno ricorda mai che si chiama Fernaldo di Gianmatteo madonna decano decano che nessuno si ricorda perché tutti ricordiamo che si ci mancherebbe però lui faceva queste puntate dove faceva vedere delle scene di film e lui ci camminava dentro faceva il fermo immagine lezioni di cinema si chiamava una cosa leggenda il fermo immagine che ne so Orson Wears che sta scrivendo la recensione della moglie della prestazione cantante lirica della moglie in quarto potere per far vedere cosa fosse il pan focus lui fa vedere come sta a fuoco sia Orson Wears in primissimo piano sia il secondo piano Joseph Cotton sia l'altro che entra sullo sfondo e camminava dentro l'immagine YouTube si può prestare pure a queste cose bellissime io mi baso sulla parola e qui perché? perché non ho tempo perché non ho i mezzi perché non è il mio lavoro ho tolto anche le monetizzazioni ormai sul mio canale non voglio più neanche quelli cioè non mi interessa dare al mio canale questo risvolto questo risvolto cioè che lascio a chi lo fa per professione io lo faccio perché mi piace il cinema e mi piace condividere queste cose mettere magari le studia dare qualche riferimento e la persona che le studia magari poi saprà trovare altre chiavi di letture oltre le mie ecco certo guarda ti faccio l'ultima domanda a questo punto che poi è la ragione stessa dell'intervista come te la metto alla fine come un colpo di scena alla Shyamalan che non te l'aspetti questa domanda ma la mia visto che cioè io adesso ho una curiosità e tu me la devi perdonare questa curiosità io voglio sapere da te quali sono i tuoi binomi della storia del cinema che tu lo chiedi sempre alla gente io posso chiedere a te quali sono le grandi collaborazioni della storia del cinema che ti hanno così che ti hanno emozionato bravo bellissima domanda bellissima domanda guarda no sono tantissime sono tantissime immagino potrei dire Billy Wilder e Itzy Diamond in sede proprio di scrittura di film da da Arianna in poi insomma da Arianna fino alla fine della carriera di Billy Wilder potrei dire quella che è la prima potrei dire John Ford John Wayne ecco un'altra fondamentale potrei dire Spielberg insieme sì a John Williams ma anche insieme a Kaminsky e oppure al suo montatore Michael Cagno che in molti oppure potrei dire Joel Cox e Clint Eastwood oppure Bruce Ortiz e Clint Eastwood potrei citare tutti questi esempi che in chi mi segue si aspetta ci mancherebbe ed è giusto che io li citi però ecco ti faccio una rivelazione ormai da un paio d'anni noto che uno dei miei registi più amati che è Sidney Pollack non lo so sta andando lentamente verso l'oblio ce lo ricordiamo sempre di meno e quindi approfitto ogni volta che mi chiedono qualcosa dello spazio che voi mi concedete per ricordarlo e quindi mi va di dire oggi il sodalizio secondo me bellissimo che c'è stato tra Sidney Pollack e Robert Redford per gli anni 70 e poi anche negli anni 80 per me un sodalizio che negli anni 70 è stato folgorante perché i triggioni del condore i triggioni del condore corvolosso lavano il mio scalpo sono per me capolavori veramente quindi ti dico questo voglio fare una scelta di campo ecco mi vedo mio figlio nel frattempo che è preciso come un roggio svizzero non riesce a stare più di un'ora lontano da me e quindi ti dico Sidney Pollack e Robert Redford mi sembra una grande scelta viva Sidney Pollack viva viva bene allora Adriano io a questo punto ti vedo sento proprio i doveri familiari che ti richiamano quindi ti ringrazio tantissimo per aver così soddisfatto questa curiosità complimenti per il canale io continuerò a seguirti grazie grazie e buon lavoro per il futuro grazie a te grazie di cuore e a presto ciao Fabio ciao